amici di inter fan tv e di fc internews.it bentornati anzi benvenuti a questa nuova rubrica il sondaggio che proporremo settimanalmente il martedì visto che l'inter resta nelle zone alte della classifica c'è chi inizia già a fantasticare a sognare sappiamo l'obiettivo è il quarto posto la champions però c'è chi dice si chiama inter e quindi bisogna pensare in grande ecco pensare in grande o vivere alla giornata solo testa al cagliari moratti per esempio dice lo scuetto non è utopia però per scaramanzia è giusto non parlarne ecco vi chiediamo di schierarvi scrivete il vostro commento il vostro voto a una delle due opzioni pensare in grande o vivere alla giornata cosa ne pensate scrivetecelo sotto poi ne parleremo nelle prossime puntate di interagire obiettivo inter su inter fan tv ciao a tutti da michele borrelli e sempre forza inter grazie a tutti